Grazie, Lois. Mi hai fatto scoprire un nuovo mondo. Come uno di quei ragazzini che mette l'apparecchio per sentire per la prima volta. Billy, ora ci senti? Sì! Fantastico! È davvero fantastico! Io e tua madre stiamo per divorziare. Sono innamorato di un'altra e non volevo dirtelo muovendo le mani.